Buongiorno fanciulle, giorno numero... Ho perso, mi coro più, che non lo siamo. Che giorno siamo? Che ridi? Siamo partiti? Eh appunto, sappiamo ancora più quando siamo partiti. Oggi palafitte, tempio sulle palafitte. Dietro di noi le palafitte. Cosa conta? Vabbè, quando monterò il video lo capiremo. Bellissimo templio, bellissimo. Questa è la New Jettie. Lì, Getty. Invece questa è la più famosa, perché c'è i negozietti. Adesso vediamo. La signora che vende il gelato. Le bimbe che piangono. Mutande estese. Tipicole. Vedete anche questo in quel di Malesia. Ecco un macellaio tipico Malesiano. Non ci posso credere. E' l'unica cosa che dovevo filmare. Ora hanno anzoni costruttivo. E dovrei camminare sui soldi. Oh sì. Stai legato? Sì. Ok. Tutto imbragato. Hai capito? Non ti buttare di sotto. Siamo legati, no? 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 Siamo legati. Ok, let's go. Senza imbragatura. Anche secondo me. Così... Così... Ciao. C'è? Ma va? Ma va? C'è Bianca qui, è anche mio marito, perché fa le foto, è tranquillissimo, adesso andiamo al 68, 68, 68, c'è parola, c'è parola, c'è parola, questo è il posto più bello, che figata, pazzesca, e adesso andiamo sulla terrazza panoramica, trasparente, no, di nuovo cosa? Caldo? Vai Paolo, secondo me la fa correndo, guarda, ma devi guardare lì sotto Paolo, occhio al signore, guarda sotto un attimo, no, è troppo facile, troppo veloce, troppo veloce, guarda Giuse, no, non ha senso, ok, siamo pronti baby, beh un po' senso lo fa, non mi si venga dire che non lo so, 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 sei coraggiosissimo, ah, quello è quello che ho fatto prima, siamo sopravvissuti, è stata una figata pazzesca ma l'abbiamo fatta Ok, stiamo attraversando il ponte della Penang Hill, c'è l'uccello che ha fatto rumore. Siamo a 700 metri, abbiamo preso la funicolare per salire qua, Bianca fa la foto degli uccelli, è la sua passione. Ok, stai fermo, ti giuro. Ok, stai fermo, stai fermo, stai fermo. E' un po' di morte, non è? E' un po' di morte, non è? Sì, non è una cosa, non è una cosa. E' un po' di morte, non è? E' un po' di morte. E' un po' di morte. E' un po' di morte. Ok, stai fermo, stai fermo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.